Sulla nostra regione passerà un fronte freddo nella serata di oggi e poi si formerà un minimo depressionario nella notte fra venerdì e sabato. Poi seguiranno correnti settentrionali più stabili. Pertanto avremo tempo piuttosto nuoloso coperto, direi fino alla mattinata di sabato, con possibili precipitazioni sparse, in genere deboli piogge sulla pianura, un po' più abbondanti le piogge sulla zona orientale, Fragorizia e Trieste, e probabili nevicate a partire dai 500-600 metri di quota sulla zona montana, possibili poi anche a quote un po' più basse nella notte. Le nevicate probabilmente saranno un po' più abbondanti sul Tarvisiano. Nel corso della giornata di sabato avremo un miglioramento, correnti settentrionali un po' più secche faranno condizioni un po' più stabili. Avremo Bora sulla costa, che potrebbe essere anche a tratti forti, in tendenza poi in calo nel corso del pomeriggio di sabato. Temperature massime intorno ai 10-12 gradi. Per la giornata di domenica avremo condizioni di cielo, direi prevalentemente variabile o nuvoloso, dovuto sia alla presenza di nubi ad alta quota e anche alla possibile formazione di nubi basse. Tutto sommato però non sono previste precipitazioni, temperature intorno ai valori di questi ultimi giorni, quindi non ci sono variazioni significative. Sulla costa tornerà a soffiare nel corso del pomeriggio, della giornata di domenica, di nuovo un po' di borino. Tempo migliore all'inizio della prossima settimana, cielo in prevalenza poco nuvoloso lunedì, con Bora anche sostenuta sulla costa e bel tempo previsto per martedì, con cielo in prevalenza sereno. Farà più fresco, con temperature in calo, soprattutto le minime che andranno sotto zero anche in pianura. Buon fine settimana a tutti!